L'Italia 1 Dimmi cos'è Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo Dimmi cos'è Sono i ragazzi e le ragazze del tennis italiano Sono pronti per portare i nostri colori più avanti possibile Per rendere l'appuntamento di Roma un evento unico Da lasciare senza fiato Internazionali BNL d'Italia Sabato 14 e domenica 15 maggio Su Italia 1 Grazie Roma Look great, feel great Indossa le calzature e il nuovo abbigliamento Rebo Chisitone Forte e leggera Carpisa si muove con te Perché ho scelto un'auto con 5.000 km di carburante in omaggio? Perché se faccio shopping riempio il bagagliaio senza svuotare il serbatoio? Perché se ho un appuntamento guardo la lancetta dell'orologio? Non quella del carburante? E se devo parcheggiare il Park Assist lo fa per me? Il 7 e l'8 maggio scegli classe A con 5.000 km di carburante in omaggio Cosa potrebbe fermarti? Da 16.900 euro Senza anticipo e senza maxirata finale Da 219 euro al mese Crudino per tutti Che buona Oh ma allora quando è che vi sposate voi tutti? Eh l'8 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 per usposarmi A me me vi è da viagli Crudino l'analcolico piondo fa impazzire il mondo Da oggi puoi provare premium gratis La vedi fino al primo ottobre senza pagar l'abbonamento E poi decidi Ti fai una scorpacciata di calcio Con serie A, Champions League, Europa League Fino ad ottobre Cinema, serie TV I documentari E per gli insaziabili c'è la net tv Per vedere tutto quello che vuoi E allora? Mi scusi Sa con premium prima proviamo gratis E poi decidiamo Mica è tutto come premium Che aspettate? Prima provate meglio è Chiamate l'199 303 404 Noi premium non ce la perdiamo Brassway About you Volete rinvigorire i vostri addominali? Vi presentiamo AB Rocket Il vostro nuovo personal trainer Sono i cilindri ad aiutarvi Ed offrono l'adeguata resistenza nella fase discendente E poi vi aiutano nella fase di risalita Con i suoi tre livelli di resistenza Chiunque può usare AB Rocket Acquista anche tu su Media Shopping AB Rocket l'originale Media Shopping ti dà un buono sconto di 50 euro Ti ama ora TG.com Pensato per te Perfetto per tutti E da oggi L'innovazione corre su strada Con la nuova BMW Serie 5 2000 diesel Da 184 cavalli E i carburanti di nuova generazione Any Blue Plus Efficienza dinamica e prestazioni uniche Al servizio del vostro piacere di guidare Se non ti senti una vittima Cerchi di modificare il fatto Ma è inutile Gli dèi hanno altri progetti Mai un po' di confusione su ciò che vuoi? Ti ho detto che sono magico Sì, un magico stronzo È come se non sapessi più chi sono Puoi sempre metterci le mani Che cosa non le piace di se stesso? O faccele mettere Nippentac Venerdì a mezzanotte e 35 In prima visione Italia 1